Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo thriller psicologico che intreccia paura, mistero e ossessione in un crescendo di tensione. Il messaggio che emerge è un monito sulla vulnerabilità che le persone possono sperimentare nella vita online e sul pericolo rappresentato da chi supera il confine tra finzione e realtà. Il testo ci invita a riflettere sul peso delle nostre azioni digitali, sulle conseguenze imprevedibili che possono generare e sulla natura spesso inquietante delle connessioni umane. Soprattutto quando non si conosce a fondo chi si cela dall'altra parte. La trama del libro L'Ultima Parola, della scrittrice Taylor Adams, pubblicato dalla casa editrice Time Crime, è la seguente. Emma Carpenter vive isolata con Laika, il suo Golden Retriever, facendo da custodia una vecchia casa sulla spiaggia della costa piovosa dello stato di Washington. I suoi unici contatti umani sono l'enigmatico vicino, Dick, e la proprietaria di casa, Jule. Un giorno legge un raccapricciante romanzo horror di H.G. Kane, scritto malissimo, e pubblica una recensione a una stella. Il post la trascina in poco tempo in un'accesa discussione online con niente meno che l'autore stesso. All'inizio sembra innocua, ma presto Emma si rende conto che da quel momento hanno iniziato a verificarsi incidenti notturni a dir poco inquietanti. Non si tratta di una semplice coincidenza, e la paura comincia a crescere. Scavando nella vita e nel lavoro di Kane, Emma scopre che ha pubblicato altri sedici romanzi altrettanto sadici e con al centro uno stalking destinato a concludersi in omicidio. Ma chi è veramente H.G. Kane? E se c'è lui dietro a tutto questo, come ha fatto a trovarla? Di cos'altro è capace? Dopo aver pubblicato una recensione negativa di un romanzo, un'appassionata lettrice inizia a chiedersi se l'autore sia solo un po' suscettibile oppure molto pericoloso. In questo avvincente thriller psicologico. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla. Per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.